Io ho avuto tranquillizzazioni, mi risulterebbe che nulla è cambiato e lui è stato molto sicuro di quello che dice, quindi ritengo che sia nel giusto e che abbia detto la verità. Però ci fa una conferenza stampa oggi pomeriggio, non fate dire a me quello che oggettivamente deve dire lui. Alle 4, alle ore 16, in sala stampa. Ma gli aletini possono stare tranquilli? Alle 16 in sala stampa. Per quanto riguarda la pratica delle caselle, andrà avanti comunque o c'è da aspettarsi magari un rinvio? Allora, lo sto, io devo tornare in consiglio, lo approfondisce l'assessore Tanti con i capigruppo, ma credo che vada avanti, visto quello che ci è stato detto va avanti.